Con noi Marcello Simoni che sarà protagonista di una serata che si terrà al Castello Estense il prossimo 31 di agosto in compagnia peraltro di Elisabetta Sgarbi in concomitanza della mostra Cavallini Sgarbi che è stata prorogata fino al 20 settembre. Allora iniziamo subito da quello che succederà appunto il 31, a cosa assisteremo, qual è il motivo di questa ospitata? Guarda è stato un invito di Elisabetta Sgarbi che ho accettato molto volentieri perché ha voluto ritagliarmi uno spazio all'interno di questa mostra, di questo evento dove tra l'altro parteciperà la stessa Elisabetta e l'Eugenio Lio dove parleranno appunto della madre, della famiglia, dello spirito che ha animato anche questa mostra. Io invece sarò lì in questa cornice di opere d'arte, di storia familiare a parlare di una sorta di famiglia estesa che è la storia del territorio e soprattutto la storia dell'abbazia di Pomposa. Come è nato questo rapporto con Elisabetta Sgarbi visto che insomma sicuramente è un'iniziativa molto importante che richiamerà molta gente sia per chi ti segue sia per chi segue ovviamente la mostra e la stessa Sgarbi? Guarda con Elisabetta il rapporto è nato quando mi ha chiesto di scrivere, di pubblicare il saggio, il mistero dell'abbazia di Pomposa legato appunto al nostro territorio e da questa occasione mi sono trovato di fronte a una persona molto intelligente, innamorata dell'arte, innamorata di Ferrara e comunque di tutto quello che rappresenta Ferrara per quel che riguarda il patrimonio artistico e storico e tra l'altro tutto questo si riflette proprio in questa mostra una mostra che non è sterile, non è un qualcosa che ci consente soltanto di vedere opere d'arte, opere d'antiquariato ma è una mostra che è uno spaccato di una famiglia e se io volessi sapere come ragiona una persona potrei vedere per esempio come tiene i libri in casa, come ordina i libri, in quali scaffali se invece ancora di più volessi conoscere la sensibilità di questa persona e avessi la fortuna che questa persona è un collezionista d'arte ecco che capirai esattamente la cifra, l'intelligenza, i sentimenti e la sensibilità di questa persona o in questo caso di una famiglia, una famiglia che è ospitata in un castello medievale, tardo medievale, dentro il quale mi sento a casa conoscere il quale mi sento a casa conoscere il quale mi sento a casa